Buonasera, ben ritrovati. Alle 17 come al solito c'è a tu per tu con il programma che avete imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi. Porto a casa vostra i professionisti, a casa vostra direttamente i migliori consulenti per fare loro le vostre domande come tramite whatsapp al 366 118 8002. Io leggerò le vostre domande proprio in diretta quindi un'occasione da non perdere. Oppure se la domanda è un po' più complessa avete bisogno di un po' di privacy a tu per tu con at milanopavia.tv. Questa è la nostra mail. Ci ritroviamo dopo la pausa per le vacanze. Vi auguro buon anno e iniziamo davvero con tantissimi professionisti. A partire da colui che questa sera è in studio con me e che inizio a ringraziare Enrico Zone, consulente finanziario. Benvenuto. Benvenuta, ben trovata. Grazie di essere qui con noi al nostro Enrico Zone che abbiamo detto è un consulente finanziario, si occupa quindi dei nostri soldi, dei nostri risparmi. Ci aiuta a gestire quello che può essere il nostro futuro patrimoniale. Io voglio chiedere prima di tutto a te Enrico che hai tantissimi anni che fai questo lavoro esattamente. Purtroppo sì, ho iniziato nel 90, 30 anni fa. Quindi più di 30 anni nel mondo della finanza, al fianco delle persone per gestire quello che hanno di più caro dopo la famiglia, i risparmi. L'hai detto. L'ho detto giusta, perché? Perché l'italiano è un grande risparmiatore. Certo, vero. È vero? Verissimo, verissimo. È ancora così? Italiano e giapponese. Italiano e giapponese? Sì. È ancora così nonostante… Adesso ancora un po' di più, chi può permetterselo? Perché uscendo meno per motivi brutti di lockdown, chi ha la fortuna di avere uno stipendio, delle entrate costanti, riesce veramente a accumulare ancora risparmi. E la cultura era la casa all'inizio e l'investimento di titoli di Stato, anni e anni fa. Certo. Doveva sempre di più, mentre in America o altri stati l'economia era basata sul debito. Addirittura, c'è una cosa inconcepibile per noi, vero? Perché… Vivere al di sopra delle possibilità col debito. Il mondo di solito va così, a parte l'italiano, che come cultura ha il risparmio perché non si sa mai nella vita. Certo, certo. E prima di tutto la casa, no? La casa, quindi metter via i soldi per comprare la casa, eccetera. E poi metter via il gruzzoletto perché poi c'è la famiglia da sistemare, eccetera. Questa è un po' la nostra cultura. E benché gli anni passino, non ci si discosta più di tanto. Sai che a volte è difficile capire perché? In che senso? Cioè lo chiedo a te perché sei tu che hai contatto con l'utente. Perché quando parli con il cliente per capire cosa fare, i suoi soldi, gli investimenti, come pianificare il futuro, devi sapere perché uno mette via i soldi, qual è il motivo principale. Ti dicono non si sa mai, non si sa mai. E a volte tengono i soldi libri, nei conti correnti, fermi, a tassi zero, ed è proprio un peccato perché perdi opportunità di investimento. I miei vecchietti mettevano via i soldi nei libretti del portatore, ti ricordi, tanti anni fa? È un vero peccato. Il mio lavoro è quello di capire con il cliente che cosa fare con i suoi soldi nel futuro. Prima cosa è il capitale umano. Scusa se ti fermo, però da quello che tu hai accennato e che io posso assolutamente constatare, il nostro telespettatore, che è il tuo potenziale cliente, l'utenza che ci ascolta, è scettica davanti a chi chiede soldi. Quindi dobbiamo dire, ok, sei un consulente finanziario, ma chi è il consulente finanziario? Penso che quando ho iniziato nel 90 non c'era neanche l'albo. Bastava fare un esame in cabana di commercio e studiavi, logicamente, e ti mettevi a fare questo lavoro. Che è un lavoro difficile ma è bellissimo perché entri con il cliente nella sua sfera familiare e diventi veramente un riferimento per quanto riguarda la sua vita. Ho clienti dal 90 e insomma ho i figli dei clienti. Tra qualche mese un nipote di un mio cliente diventerà mio cliente e sono cose che nel lungo periodo pagano. L'inizio era difficilissimo perché entravo in una casa di un cliente abituato ad andare in banca. Vai in banca, la banca la vedi, la tocchi, la banca ti dà i soldi, rendimenti di titoli di Stato 12%, 13% nel 90-91, borse altalenanti. E era difficile creare un portafoglio. Ti dicevo, ma i soldi dovevano finire, vanno in banca. In 92 hanno fatto un albo professionale, dei promotori finanziari. Sì. Hanno fatto l'esame di Stato, si facevano in Borsa Milano, dopodiché la cosa è diventata un po' più incareggiata. Per cui c'è un albo professionale, un albo professionale, tu devi rispettare alcuni requisiti per mantenere la tua iscrizione. E passano gli anni. La gente ha bisogno di sicurezza, di capire bene cosa fare dei risparmi. Ed è veramente difficile, il primo passo è difficile, far capire al cliente cosa fare, perché io devo capire lui cosa vuole fare. Certo. Credimi che a volte non lo sanno, ripetono tutte le solite cose, perché non si sa mai. Ecco, è un po' nello spirito nostro quello di essere previdenti, però la previdenza a volte fa perdere delle opportunità. Vero, vero. Cosa faccio io di solito, se posso dire una cosa? Sì, certo. Prima di parlare del capitale del cliente, se rende il 2%, il 3 o il 4%, mi piace fare un passo, cioè fermarmi e fare il punto di capire una cosa importante, il suo capitale umano. Ecco, cosa intendi per capitale umano? Perché prima di parlare di investimenti, vuole capire bene lui chi è, che lavoro fa, che impegni finanziari ha, perché vuole investire i soldi, ok, perché è una cosa particolare, il denaro serve come riserva, ma se ha obiettivi, comprare una casa al mare, comprare la casa in cui abita. Però prima di parlare di queste cose qua, devo capire bene, aiutare lui nella pianificazione familiare e finanziaria. Faccio un esempio per andare sul pratico. Se è un cliente, lavora solo lui, la moglie e i figli a carico e ha un capitale da investire, va bene, lo investiamo nel modo tranquillo, agitato, equilibrato, ma prima di investire il capitale devo tutelare la famiglia. Il capitale umano è con una copertura assicurativa. Certo, perché questa è una cosa molto importante che dobbiamo dire, perché il nostro Enrico Zone, consulente finanziario, un'altra cosa poi che spiegheremo, importantissima, abilitato all'offerta fuorisede, lavora sia per la banca che per la fascia, la sfera assicurativa di un grandissimo gruppo, che lo diciamo è l'Allianz, perché forse è il gruppo più grande. Sì, ho due mandati, uno finanziario come consulente e uno come agente assicurativo. Sono due cose che si sposano molto bene, tutte le cose hanno a che fare con la fiducia, fiducia, denaro. L'esperienza che ho visto in 30 anni è questa, insomma, se capita una cosa particolare, brutta alla famiglia, i soldi vanno via subito. Uno ha lavorato magari 20 anni, ha fatto un piccolo gruzzolo e oltre alla tragedia c'è anche un disastro finanziario. Se all'individuo togli quest'ansia, disattivi quest'ansia, si sprigiona un potenziale. Perché tenere 20-30 mila euro, che sono tanti soldi, fermi, non investirli? Perché non si sa mai. Se succede la cosa brutta, neanche parliamone, la copertura assicurativa tutela i familiari e tu, imprenditore, dipendente, papà, marito, sei più tranquillo per poter investire nel modo un po' più aggressivo nel medio e lungo periodo. Ok. Questa è una cosa fondamentale, perché questo patrimonio di famiglie è veramente andare a massa per questa cosa qua. Quindi, allora, segniamo il primo consiglio, quello prima di pensare a come investire, di pensare a come, in un certo senso, tutelarsi, tutelare la propria famiglia. Proprio capitale umano, perché lì è tutto. Ok. 20 mila euro, alla fine dell'anno ne ho 21, ne ho 19, 800, ne ho 22. Cosa cambia, Marosa? Non cambia niente. Certo. Però ho fatto un'assicurazione che mi tutela. Investire, dipendendo dall'età, 30, 50, 60 euro al mese. Adesso non voglio vendere un prodotto mai, vendo il concetto. Certo, il concetto. Disattiva questa cosa e la persona può andare in macchina, può lavorare, e pensare ai figli a casa e dire, guarda, se qualcosa succede, la realtà sono cose tragedie, ma non metto a rischio tutta la fatica che ho fatto. Questo è il primo passaggio. Io, quello che voglio chiederti è questo. Noi possiamo tutelarci solamente dalle tragedie, insomma, come possiamo immaginare che tu abbia voluto esprimere, o anche da fatti che possono capitare, che sono più grandi di noi, e che sono in quel momento tragedie, ma che possono essere la perdita del lavoro, piuttosto che un infortunio, anche che passa, però che magari per un artigiano in quel momento è una tragedia. Sono tre le cose che di solito possono azzoppare un imprenditore o una famiglia. Discorso brutto, ma devo toccarlo perché è da lì che si parte per gestire il patrimonio totale della famiglia. Il primo è la morte, il secondo è il danno invalidante, da infortunio e da malattia. Sono tre cose da fare, assolutamente, ad un imprenditore, ad un impiegato, ad un papà, perché sono le cose che veramente ti blindano. E in Italia la cultura assicurativa è molto, molto acerba rispetto agli altri. Perché uno pensa, ma c'è lo Stato, c'è l'Inail, insomma... Però lo Stato sta perdendo un po' la sua valenza di tutela. Non abbiamo più tutte queste certezze. È proprio così. Prima c'era più lavoro, c'era più... Con la disoccupazione, con la crisi, sempre sempre meno. Solo che la gente ti dice, io vorrei fare delle coperture assicurative per tutela, ma non ce la faccio perché tra le tasse, tra gli impegni providenziali, il lavoro carente, rimandano. Infatti o non sono assicurati o sono sotto assicurati. Questa è la base di partenza. Noi abbiamo tantissimi argomenti da sviscerare di cui parlare di interazione dei nostri telespettatori. Però ho bisogno ancora un elemento, prima di andare proprio sul concreto. Ho bisogno che tu mi spieghi cosa vuol dire, perché è importante, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Fuori sede. Ecco. Fuori dalla banca. E questo è importante perché, come dicevi tu prima, entrare in banca ti dava una sorta di fiducia, no? Sì, la gente, il comune, tutto il mondo. Mia mamma all'epoca mi diceva, ma che lavoro fai con la valigetta in mano e fai gli investimenti? Perché uno deve passare da te? Non può andare in banca. Certo. In banca si lavora, lavorano bene, corso molte persone in banca, professionisti sicuramente. Quello che trovo di difetto ultimamente dai miei clienti, mi dicono che vai in banca e c'è una persona preparata e va bene. Dopo due, tre, cinque anni questa persona a volte non c'è più. Devi andare lì e parli con un'altra persona ancora, chi sei, cosa vuoi fare. È una cosa molto importante, ripetere sempre le solite cose. Invece con un promotore finanziario, con un promotore finanziario nel mio caso, tu investi soldi con una persona che più cose sa di te e meglio è. Per andare fuori sede devi essere scritto questo albo qua. Ecco. Offerta fuori sede. Che ricordiamo un albo che c'è dal 92, hai detto? Sì, il 91 è il promotore finanziario. Da qualche anno, mi sembra, due, tre anni, c'è questa legge Mifid riguarda l'offerta fuori sede. Sì. Posso andare in famiglia, entro una famiglia, cliente potenziale, cliente nuovo, devo presentare subito il mio albo, la mia iscrizione. Nome e cognome, iscritto all'albo, numero e la mandante. La mandante è la banca per cui lavoro. Attenzione quindi a casa, non fate entrare chiunque. Se entra uno, il primo appuntamento è dimostrare chi è con il certificato bancario. Iscritto alla sezione dei consigli finanziari, numero, matricola. Questo è importante. Questo vi garantisce, oltre a una professionalità, che va bene, il nostro Enrico Zones è maturato sul campo in 31 anni di esperienza, però ogni anno dovete fare aggiornamenti. Abbiamo 30 ore di formazione online, con vari test, per poter mantenere la certificazione. È fondamentale. Se uno non fa 30 ore di aggiornamento, rischia, insomma, soppressione dell'albo, radiazione, cose negative. Ecco, diciamo... Cosa capita, se posso, perché si parla delle emozioni a volte, sai, cose nuove. Chi lavora in banca non potrebbe andare fuori dalla banca a proporre investimenti. Sì. Il consulente può farlo. Io ricevo clienti o in banca a Milano, se c'è una banca a Milano o a Roma, dipende dal cliente, nel mio ufficio avvisevano, ma tante volte dal cliente, nella sua ditta o a casa sua. Ok. Posso farlo perché ho questa certificazione. E quelli che lavorano in banca lo fanno lo stesso? Non potrebbero andare fuori a fare dei contratti, tornare con l'assegno, non potrebbero. Poi... Lo fanno? Ma sì, ma sì. Ho colleghi in banca che lavorano bene, non voglio dire... No, no, per carità, però insomma, noi diamo delle informazioni. Anzi, molti miei colleghi nuovi sono ex bancari. Ah sì? Vent'anni di esperienza in banca con la clientela. La banca che paga lo stipendio, si è dipendente. Vengono, fanno il grande salto, diventano lavoratori autonomi, come me. Per cui il cliente diventa, passami il termine, un tuo socio, perché condividiamo le stesse cose. Più il suo capitale è protetto e cresce, più io guadagno. Lui è contento, investe ancora soldi, magari la referenza, perché in questa fase qua il lavoro ce n'è tanto per il passaparola. Perché, insomma, un anno, due, tre, cinque, dieci, venti, e tu sei sempre lì, sei sempre lì, il figlio, il cognato. Poi il lavoro, nel mio caso, è anche la passione. Lo faccio molto volentieri, non me ne accorgo, mi piace proprio andare a capire bene cosa fare e in che modo. Cerco di dare, Maria Rosa, il miglior prodotto con il minor costo. Ecco, adesso è il momento di passare al concreto, perché i nostri telespettatori, quando si parla di risparmi, vogliono il miglior prodotto sicuramente, ma vogliono anche affidarsi appunto a una persona che dia fiducia, vi abbiamo già detto quali sono le caratteristiche che deve avere il consulente finanziario, per cui voi vi possiate fidare, essere un professionista, essere scritto all'albo, avere magari un po' di esperienza. Se lui lavora bene, frutta il vostro capitale, lui guadagna, quindi è sicuramente una sorta di società, di accordo che si fa insieme. Possiamo anche dirlo, io vado nel concreto. Mediamente un promotore finanziario guadagna una percentuale sulla massa che ha in gestione. Ok, ma sulla massa che se sale, ovviamente... Tutto il capitale, un consulente con un patrimonio di qualche milione di euro, su alcuni fondi tranquilli, poi nel modo specifico, guadagna lo 0,18%, su quelli azionari un po' più altarenanti anche lo 0,40%, fare una media dello 0,35%, per cui se un capitale del cliente dovesse perdere il 20% che è tanto, a fine mese io lo sento. E certo, certo. Nelle fasi come questa, i mercati in rialzo, quest'anno, un anno anomalo, chiamo i clienti per dire siamo un po' troppo alti, magari conviene vendere il guadagno e metterlo al sicuro. Quando c'è la fase contraria, tipo marzo, aprile, con i mercati in forte ribasso, panic selling, paura, chiamo i clienti per farli investire. E loro ti mandano a un paese? No, no, mi dicono, al inizio sì, mi dicono Enrico, se mi chiamano Enrico è o perché i mercati vanno bene o perché vanno male. Quando c'è la stabilità, tutto va bene, ma ora tutto va bene, non c'è ansia. In Italia, e anche nel mondo di solito, non ho qua molto, si fa il contrario. I mercati salgono, tutti hanno da investire. I mercati scendono, hanno paura, hanno una scusa, devo cambiare la casa, la macchina si è rotta, ma è una cosa di ansia. Insomma, i film americani non hanno insegnato niente. No, io, più che gestire il capitale, devo gestire le persone, perché a volte il fai da te sbaglia, insomma, l'argomento è lunghissimo, dirlo in un'ora è anche sì poco, cerco di andare un po' nel concreto. Allora, arrivano i primi messaggi, no? E ovviamente c'è qualcuno un po' arrabbiato, c'è qualcuno un po' disilluso dal periodo, no? E dice, consulente finanziario proprio all'inizio di quest'anno, che veniamo da un periodo disastroso. Ecco che però Enrico ha dato il primo spunto, proprio quando c'è la crisi, bisogna avere... Sì, un tempo un po' lungo per l'investimento, un orizzonte medio-lungo, se vuoi avere dei risultati. Quest'anno comunque, negli ultimi 7-8 mesi, hanno fatto un record i mercati azionari, molto la tecnologia. Perché è un po' un mondo manipolato, è un mondo un po' drogato in questa fase qua. Cosa intendi per questo? È un mondo particolare, perché se parli con persone nel settore, negli ultimi due anni tutti avevano un po' di paura. In America Trump, le elezioni, il petrolio che era sceso, i tassi a zero negativi delle banche centrali, insomma, particolare. E quest'anno, quando dico così, perché secondo me, quello che vediamo in televisione oppure nei giornali, a volte può essere un po' troppo pompato per creare paura. Con la paura si vende di più. Ok, e quindi si libera. Non so se mi spiego perché. Sì, 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 certo, no, è chiaro. Perché, ad esempio, in modo concreto, a gennaio, febbraio, clienti nuovi o clienti anche storici andavano benissimo perché l'anno scorso i mercati hanno fatto veramente tanto. L'anno scorso parliamo del 2000. Scusa, due anni fa, 2019, sono ancora amato qui. Un anno veramente importante. Quest'anno, a gennaio febbraio, insomma, dopo tante belle performance, era difficile fare i portafogli. Quest'anno, con il crollo, o uno stava fermo, e aspettava perché la pandemia è una cosa nuova per tutti, oppure con un po' di forza comprava durante i ribassi. Questo è il consiglio che do. E nessuno sa il futuro, logicamente. Però tu una cosa me l'hai detta, che bisogna avere pazienza perché i mercati salgono sempre. Per una prova la magica, la dico in diretta, la sanno tutti, però bisogna ripeterla. La diversificazione. Un capitale, le famose uova del paniere, un capitale di un cliente, non puoi metterlo tutto su un prodotto, perché o va male, o rimane al palo e non rende, o va bene, mamma, fortuna. Per cui nessuno sa il futuro. Come approccio i clienti io? Una volta trovato un percorso, medio, lungo periodo, è la cosa migliore, diversifico il capitale a livello mondiale. Addirittura? Mondiale. Diviso per area geografica, America. Quando ho iniziato a America Rosa, all'epoca, avevo solo prodotti di casa. Avevo un fondo italiano, un fondo europeo, un fondo americano, e un fondo dei paesi emergenti, le tigre asiatiche. Adesso ci sono centinaia di prodotti di casa interna, oppure come promotore finanziario consulente, mi posso valere di casi di investimento a livello mondiale. Non posso fare i nomi perché... Il mio catalogo non è vincolato a una sola banca. Questa è una cosa importantissima. Io so che la banca dell'Italia americana è brava per gli investimenti sulla robotica. Gli investimenti sulla salute può essere una banca svizzera. e componga i portafogli in questo modo qui, diversificando... Allora, abbiamo detto una seconda cosa importante, ossia che un consulente, un promotore finanziario, che non è legato solamente a una banca, può vendervi più prodotti. Quindi ovviamente è l'offerta... A 360. È più grande? Sotto l'ala della mia compagnia, che è la mia mandante, nel mio, come dire, nel mio vadigetta, ho tutti gli investimenti delle più grosse case di investimento. Ci deve essere la mandante a fare accordi sopra la mia testa. Sì, sì. Per cui se vedo che quella mandante, come dico io, a cifra lussemburghese, o italiana, o svizzera, o americana, c'è un prodotto molto bello, chiamo il cliente e lo metto in portafoglio, se corrisponde alle sue esigenze. Perché non tutti hanno... Non tutte sono brave in tutto. Ok. Allora, è arrivata un'altra domanda. Ci chiede Ernesto, ok, quanti soldi servono? È importantissimo. Quando ho iniziato, avevo 21 anni, e i miei clienti erano operai e impiegati. Soldi non ne avevano. Anch'io. Allora che potevi fare? Potevi fare gli investimenti, i famosi piani di accumulo, i PAC, investendo una cifra mensile in un prodotto o in più prodotti. L'altra formula si chiama PIC, piano di investimento capitale. 1000 euro. 1000 euro. Pensi, è una cosa fantastica, perché io, da Visevano, dal mio ufficio, con un cliente con 1000 euro, non cambia la vita, logicamente. posso comprare azioni in Cina, azioni in America. Da solo non puoi farlo. Devi passare attraverso il risparmio gestito. Io mi occupo di risparmio gestito al 90%. Per cui, fondi di investimento, e SICA italiane, e dosso e borghesi. In buona sostanza, tu prendi una quota di un cliente, di un altro cliente, e compri dei... Fondi. Oggi come oggi, in modo concreto, l'investimento più sicuro, per mettere il capitale al sicuro, farlo rendere, averlo sempre libero, e il risparmio gestito. Fondi di investimento o SICA. Cosa vuol dire averlo sempre libero? Perché qualsiasi investimento che fai nei fondi, è libero in quattro giorni lavorativi, una settimana. Ah, ok. Da lunedì a venerdì il capitale è libero. Quindi non si ha neanche quell'ansia lì. Tutti i miei investimenti non hanno scadenze. Non c'è una scadenza di 5 anni, 10 anni. Serve a me perché, se l'orizzonte è medio-lungo, mi posso un po' sbizzarrire, con un portafoglio fatto alla carta. Non prendo cose preconfezionate. Il sistema equilibrato, il sistema aggressivo, quello prudente. Perché mi piace con il cliente, condividere i suoi gusti, e andare a fare il famoso abito su misura. In base ai suoi obiettivi, alle sue esigenze, e faccio veramente l'abito su misura. Investire i fondi comporta una spesa del 3%, di solito, di entrata. Gli ultimi anni è di moda far spendere o niente o meno, dipende dal tipo di cliente. Se sono in ufficio e il cliente viene lui, non faccio spendere niente di ingresso. E in questo istante non ho neanche una provvisione, neanche un guadagno. C'è il cliente di Torino, di Milano, devo fare dei viaggi, più volte lascio magari l'1%, giusto per la benzina, il telepass. Il mio guadagno è mensilmente sul suo capitale. Cosa dire dell'altro importante? Abbiamo detto anche prima, abbiamo parlato di un argomento importante, che è appunto la diversificazione. è fondamentale. Però hai citato anche che bisogna fare una pianificazione. Quindi diversificazione e pianificazione. Per la pianificazione ti serve il tempo? È tutto lì. Pianificare l'acquisto di una casa al mare tra 15 anni, mi dicono. Pianificare gli studi per i figli di università. Dico, quantifica in soldi, ad esempio. Mi servono 200 mila euro tra 15 anni. Cosa guadagna, cosa risparmia, quello che ha già da parte e si fa una diversificazione. Nel lungo periodo i mercati che danno di più sono quelli azionari. Ma non comprare i titoli singoli, che può essere molto rischioso. Ripeto ancora una volta, risparmio gestito. Dico a tutti anche a casa, risparmio gestito. Mentre noi parliamo, i miei clienti hanno i soldi in fondi, io sono qua con te. Ma chi ha in mano i soldi? I gestori. Il gestore di notte è collegato con Giappone e la Cina all'alba, di notte con l'America. Sono sempre sul pezzo per gestire questi fondi. Il fondo di investimento è nato in Italia nel 1984. Sono H24 controllati? Sì, per cui il gestore fa spendere a un suo guadagno. I fondi comuni spendono dall'1 al 2 al 3 al 4 per cento in base al tipo di fondo. una parte va alla banca e una parte va al consulente. Certo. Se in questo fondo esempio italiano, azionario italiano, con dentro 200 titoli italiani, azioni italiane, se magari un titolo dovesse fare default perché sono bilanci truccati in qualche modo, il fondo neanche se ne accorge perché essendo diversi, in tanti settori diversi, farmaceutica, assicurazioni, banche, il cliente finale è tutelato perché il fondo rimane lì, c'è una quota, la vedi e la puoi vendere tutti i giorni. Sì, insomma, vanno a risanare la parte... Sì, perché molti confondono rischio azionario con fondi con titoli. Se compri un solo titolo o diventi socio, ad esempio, c'è un'azione che mi piace e io la compro in borsa, tu sei socio di questa azienda. Come quelli che gli piacevano le azioni della Parmalat. Hai toccato l'argomento fondamentale. L'azione di Parmalat tu diventi socio, metti 1.000 euro, 10.000 euro nelle Parmalat, tu sei socio e ti aspetti i dividendi. Certo. Se la Parmalat dovesse andare male come è successo, tu che sei socio non hai più niente. Se hai delle obbligazioni, hai un titolo di credito, ti aspetti il capitale indietro e ti aspetti delle cedole e poi vai nell'argomento dei tassi di interesse, insomma. Con i fondi di investimento ti rivia questa paura al cliente. Questa paturna. affidi il capitale a un gestore, un professionista. Ci pensa lui a capire che cosa mette nel fondo, se mettere questo o quell'altro. L'altra cosa, tanto cosa da dire in modo che veloce perché è la passione che ho, la passione che ho. Diversificazione a livello globale anche per valute. Oltre all'euro, sterline, franco e svizzeri e dollari. Aspetta, 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 perché adesso andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con le valute. Mi prende la voglia di parlare. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, siamo in compagnia di Enrico Zone, consulente finanziario che ci sta aiutando a capire come muoverci nel mondo del risparmio. e soprattutto le domande che stanno arrivando e le critiche anche che stanno arrivando sono quelle riservate alla parola risparmio perché sembrano che soldi non ce ne siano. Ma ci sono o ci sono queste potenzialità? Enrico, tu che sei sempre sul campo, sei tutti i giorni a casa della gente. Abbiamo detto prima che forse sono proprio i media che a volte ci spaventano e ci fanno percepire una situazione ancora più drammatica di quella che è. Compresa questo momento storico che stiamo vivendo che ci sta cristallizzando. Non solo ci chiude nelle nostre case ma ci chiude anche verso qualsiasi insomma forma di investimento o di azzardo. Perché a volte l'investimento è visto come una forma di azzardo mentre sarebbe solo una pianificazione del nostro futuro. Giusto? Azzardo è il breve una scommessa il mio lavoro è un altro è pianificazione nel lungo periodo con strumenti adatti i soldi se guardiamo in giro c'è crisi non c'è lavoro i giovani senza soldi senza lavoro per cui uno pensa siamo veramente messi male e invece invece no sono tantissimi soldi in giro però sta capitando la polarizzazione i due poli la forbice chi aveva soldi prima benestante prima ora ne ha ancora di più il ricco diventerà ricchissimo ecco auguri il povero è alla canna del gas diventerà poverissimo quello che capita già in America da tanti anni è sparita un po' la fascia media l'imprenditore col dipendente l'impiegato col suo lavoro per cui uno va in casa integrazione il lavoro a tempo determinato veramente brutto ma se vediamo a livello mondiale ma anche italiano ci sono tanti soldi in giro le banche centrali stanno continuando a stampare moneta la gente la gente ha i soldi nel conto corrente perché adesso spende un po' meno vabbè e cosa fa perché sono così alte le borse anche perché non c'è alternativa mentre prima ho iniziato a lavorare era difficile perché mi confrontavo con i famosi BTP 10% 12% e le borse alte allenanti che cosa mi dai tu dicevano la promessa del futuro che nel lungo periodo le borse batteranno i BTP ed è successo così è successo però era difficile farmi dare adesso mi trovo il contrario le borse alte allenanti e i tassi negativi come è possibile prima facevi fatto 100 prendevi capitale su 100 milioni di lire ne mettevi 70 nel mondo obbligazionario BTP BOT CCT Dandoti il 5 6 7 8 per cento questa questa componente dava degli utili il 20 per cento il 30 per cento potevi mettere in fondo gli azionari altravenanti e un anno 2 3 4 se la parte azionaria era ancora al palo la parte obbligazionaria col 7 per cento il 5 di normalità compensava tutto e nel giro di 5 6 anni il cliente era protetto non c'erano problemi certo adesso con i tassi a zero negativi o minimi non è più questa colonna portante che ti stabilizza l'investimento certo sei un po' nel mondo variabile come fa a sapere qual è la cosa che andrà meglio per cui ripeto nessuno lo sa cosa faccio io in modo concreto investo a livello mondiale il capitale sia anche 1000 euro i 100.000 quelli che sono mettendo dentro nel portafoglio settore assicurativo finanziario automobili farma adesso che di modo i vaccini la robotica le città del futuro le infrastrutture dalla Cina all'Europa la via della seta mettendo nel portafoglio del cliente tutto il mondo il mondo non puoi fermarlo c'è la pandemia un po' rallenta c'è la crisi ma non puoi fermarlo se hai questo approccio qua di investire nel lungo periodo diversificare bene per aree geografiche per valute non solo sull'euro ma anche in dollari anche in svizie di yen praticamente hai veramente il mondo in mano una cosa un po' un po' forte te ne puoi anche un po' fregare se alla sera mangi gli spaghetti e vedi crollo la borsa meno due meno tre crollo crollo se tu i soldi li hai bisogno tra vent'anni che te ne frega di quella cosa qua invece deve preoccupare chi fa dei trader gli speculatori e quelli che fanno il mordi e fuggi lì devono fare questo lavoro ma uno che pianifica quel cliente il medio periodo un investimento a livello globale se ne può anche fregare di queste ansie mi spiego un po' il discorso è una cosa difficile ma se ne può fregare tu ti spieghi però c'è questa domanda di aspetta che l'ho persa eccolo qua Attilio ci dice se la forma di investimento ormai è questa quindi non è più il guadagno certo il certo come una volta 5% 6% come si fa a pianificare vuol dire in buona sostanza se io mi voglio farla a casa al mare giusto fatto 100 il portafoglio nel tecnico il mio portafoglio clienti nella globalità adesso è una linea bilanciata aggressiva vuol dire che ho dentro il 50% settore monetario obbligazionario che rende veramente poco o niente ma mi fa da come dire stabilizza è una colonna portante il restante 30-40% è nel mondo azionario globale ok per cui nel medio periodo questi insieme di strumenti finanziari io lo vedo ogni giorno in base alle quote il capitale uscilla bisogna accettare un po' di la chiamano volatilità il capitale deve se varia e tu non ne hai bisogno poi anche poi anche flutto a flutto la chiamano il VIX l'indice della paura la volatilità l'italiano prima era buttato ad avere rendimento garantito metteva 100.000 euro gli davano 6-7 all'anno e alla fine il capitale 100.000 adesso non hai niente devi aspettare 10 anni per avere forse l'1% le borse vanno su perché sono un po' pompate anche da quella cosa qua troppi soldi in giro e vanno sui fondi azionari prima l'italiano finanziava il debito pubblico per cui davo i soldi allo Stato mi dava l'8% il 2 o il 3 e così lo Stato faceva sempre più debito pubblico in America le borse sono più alte anche perché la gente di là investe nell'economia reale in azioni in fondi per cui l'impresa sotto casa che è una SPA riceve dalla gente soldi non dalla banca che poi deve rendere indietro dagli azionisti così facendo il mercato si è amplificato in Italia la borsa italiana è veramente piccolissima rispetto all'America o al Giappone per cui diversificare lungo periodo fare un portafoglio su misura adesso quella fase qua di mercati così elevati subentro in gioco io mi dico cliente hai fatto con ottica lunga va bene però c'è un surplus cosa facciamo dove lo mettiamo? se non facciamo niente vuoi cambiare la macchina? i tuoi 100 mila euro o i tuoi 10 sono 12 o 120 se hai delle spese improvvise approfitta di questa cosa qua perché poi se c'è uno storno come è normale la famosa volatilità non è niente e quando invece va male chiamo per fare il contrario questa qua è il mio lavoro gestire il cliente in questo percorso c'è chi mi dice non me ne frega niente l'ho fatto con ottica veramente lunga non me ne frega se adesso sono più 8 più 10 credo molto nella robotica nelle cose digitali resta investito secondo me devi sempre essere investito vedo fare delle cose pazzesche la paura vendi tutto vai sul tranquillo il mercato riprende quasi quasi rientro è già un po' troppo tardi questo è il fai da te ho clienti potrei fare veramente tanti esempi non voglio annoiare a casa la gente no ecco parliamo però del fai da te quest'anno a marzo cose pazzesche non faccio nomi cliente mi telefona e mi dice vado in banca in banca e sono sotto del 20% avevo 100.000 euro sono 80% quello della banca o concorrente mi dice vendi tutto e stai tranquillo perché arriva la crisi del mondo tu in questo momento qua come dire il tuo default lo consolidi da 100.000 vai a 80% e tu perdi hai perso il mercato riparte tu non sei più tu sei già fuori vedi quando era in discesa non ci sei quando risale il mercato risale passano circa 6 mesi un anno quasi quasi rientro e fai ancora un errore perché compri quando è alto e esci quando il panic selling il consulente fa questo più che gestire i vari fondi gestire le sue cliente le sue emozioni ecco invece qua c'è qualche cavallo pazzo tipo Danilo ci chiede io invece vorrei imparare ad approfittare delle oscillazioni per guadagnare tanto e subito bravo solo tu il consiglio che do anni fa erano comprare i titoli in borsa compravvi lezioni le vendevi però se pensi al tempo devi andare lì guardare o vendere c'è anche il tempo chi vuole fare quello che vuole Danilo si chiama Danilo Danilo ti consiglio di aderire a una piattaforma che sono tantissime a livello mondiale piattaforma di trading è trading puoi comprare tutto e subito e lo vendi quando vuoi ma che consiglio dai ma scusa va contro il tuo lavoro io non posso avere un cliente che vuole tutto e subito di me non ha bisogno perché vuole andare al casino vuole fare scommesso e tanti clienti lo fanno mi dicono guarda qua 100.000 euro vediamo delle cifre così con 90.000 te li do a te pianifichiamo insieme fai tu il portafoglio un po' più aggressivo un po' meno diversifica nelle valute in Giappone in America quello che vuoi però con 10.000 euro io voglio fare un po' di un po' di brivido prima compravano le azioni singole ma non basta più bisogna andare sulle piattaforme per chi vuole fare questa cosa qua ecco e cosa si fa su queste piattaforme? puoi comprare qualsiasi cosa anche con l'effetto leva va bene per Danilo perché puoi investire volendo all'inizio anche piccole cifre e avere un potere enorme diciamo un esempio se metto 1.000 euro sulla scommessa dollaro euro o sul petrolio sulle materie prime metto 1.000 euro è come fare il rosso e il nero peggio metto 1.000 euro su una certa cosa che poi si rivaluta l'effetto leva ti permette di amplificare di 10 30 volte l'investimento se metto 1.000 euro ad esempio sul petrolio perché mi piace investire sul petrolio 1.000 euro normalmente dopo un mese il petrolio ha fatto il più invento 10% o 1.100 ha perso il 10 ne ho 900 aspettiamo però l'effetto leva ti amplifica e divide il tuo potere naturale ad esempio leva 10 il 1.000 euro vale 10.000 10.000 euro il 10% è 1.000 euro per cui con 1.000 euro leva 10 a fronte di un più 10% il capitale lo raddoppi lì è veramente un brivido non riguarda il mio lavoro riguarda e tantissime noi lo stiamo facendo con le criptovalute con le materie prime con le valute normali euro dollar australiano è un mondo vedi che è un mondo molto esistono piattaforme dove uno si scrive investe ma sono sicure le piattaforme le più famose sono sicure devi dire chi sei devi fare il tuo account dai tuoi dati bancari la carta di credito e puoi comprare anche piccole cifre 10 euro 50 euro ad esempio così è per divertirsi lì non è più l'investimento è una speculazione anche nel breve e ce ne sono tantissime cioè invece di comprare non posso fare il nome perché certo no 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 però invece insomma di scommettere il sostituto della scommessa diciamo io vedo alcuni giovani che sono lì anche i ristoranti li vedevo lì così e guardo mi cade l'occhio con i vari grafici perché se una cosa da 1 va a 5 non va in modo lineare da 1 a 5 ma lei va a 1 1 e mezzo 05 1 e 2 il bravo trader lo chiamano surfing deve essere bravo a salire vendere magari vende 20 volte in un giorno Danilo può vendere anche 20 volte in un giorno si diventa un lavoro diventa un lavoro per cui è meglio per i capitati seri affidarli a gestori ecco ecco gestori tu vai a mangiare la pizza vai in giro in moto vai con l'amorosa vai al cinema quando si potrà andare e non pensare al tuo capitale con l'ansia perché ce l'ha in mano un gestore professionale in più hai un consulente finanziario che ti manda il report lo incontri quando vuoi puoi spulciare ogni giorno il tuo controvalore la cosa bella del mio cliente è questa qua come ha detto se la mia casa avesse fuori il campanello oltre al nome e cognome il valore della casa metterebbe ansia invece la casa la tocchi sono le mura è tranquillo è casa tua è casa al mare sai che ha perso un po' di valore però vai nel weekend sei in casa l'italiano medio è la casa sicurezza se nella casa ci fosse fuori ogni giorno cosa vale esattamente la casa ti viene l'ansia quasi come la borsa certo è un esempio calzante chiedo scusa se a volte magari mi infervo un po' parlo perché l'argomento mi piace tanto certo dobbiamo pensare al nostro capitale come a qualcosa che è lì e che insomma ha un valore che oggi è un valore domani è un altro dobbiamo pensarlo nel lungo periodo perché se no oggi con 10.000 euro compri una cosa tra 5-6 anni non bastano più ce ne vogliono 12 se tu non investi perché hai paura lo lasci nel conto corrente hai fatto un danno allora molto molto interessante ti faccio solo le domande brutte perché quelle belle la prossima volta solo quelle brutte ci chiede Greta bello pensare sarebbe bello poter pensare a un futuro fatto di casa al mare ma io mi chiedo se domani invece avrò la pensione quindi il mio futuro è fatto di algo Greta è un argomento fantastico nel mio lavoro faccio anche la pianificazione per la pensione con la provvedenza complementare c'è questo problema non credo che Greta sia l'unica complimenti per la domanda Greta tanti mi dicono io vorrei farmi la pensione integrativa ma non arrivo neanche a fine mese perché lavoro meno sono part time oppure l'autonomo vorrei farmi un fondo pensione fatto bene versando 5, 6, 7 mila euro all'anno non ce la faccio devo pagare l'IMSS perché in Inghilterra e in America lo fanno ma non c'è lo Stato non paghi queste cose perché adesso la paura è questa io li do allo Stato ma me li ridarà la vita si allunga sempre di più ma è una cosa positiva perché le pensioni vanno avanti oggi abbiamo 5 pensionati e una culla in Italia tra un po' di anni è veramente un disastro prima c'erano 4, 5 lavoratori e uno che era in pensione per cui bastava il welfare è fatale adesso il lavoro ce n'è poco contributi pochi vecchi mio padre esempio anziano meno male che vivono fino a 90 anni speriamo anche di più però è una cosa bella la pensione ma fatta così come adesso è un problema allora dice lo Stato fatti la pensione per il cavo di tuoi con strumenti privati sì per incentivarti a fare la pensione integrativa hai un vantaggio fiscale enorme da subito l'unica cosa questo è un pro il contro sono soldi che vedi quando andrai in pensione sì alcuni l'accendono con investimenti mensili 100 euro 200 per farla bene bisogna investire per 30-40 anni la vera polizza integrativa chi dice guarda 100 euro al mese sei a posto l'hai fatta no alla fine non hai niente questi sarebbero insomma bisognerebbe iniziare a farla appena iniziare a lavorare in pratica oppure quando nasce un figlio nasce un figlio siccome chi versa nel fondo pensione ha un vantaggio fiscale notevole fino ai 5 mila euro all'anno 5 mila euro all'anno dall'IRPEF uno pensa cavolo lo faccio adesso che ho nel mio caso 52 anni se metto via ogni anno 5 mila euro all'anno per 10 o 15 anni alla fine avrò un capitale che se lo trasformo in pensione mi dà niente perché il montante finale è poco sì ho un bel vantaggio fiscale poi cosa fanno alcuni miei clienti e anch'io intestano il fondo pensione al figlio che ha un anno due o tre chi paga è il papà non papà chi paga ha il vantaggio fiscale ogni anno dal suo IRPEF dipendente 730 l'autonomo con le tasse quando il figlio ha 18 anni la macchina l'università ha già un capitale che il papà ha accumulato in un fondo pensione mirato magari la linea bilanciata azionaria che nel lungo rende bene il papà ha avuto il vantaggio fiscale tutti gli anni è una cosa mica da ridere è una cosa bella ma questo vantaggio si vede direttamente in busta paga? si una volta all'anno in busta paga se uno è dipendente per cui fai conti per facilitare le cose 5.000 euro di investimento in un anno in un fondo pensione ok che è il massimo deducibile 5.174.57 vabbè il massimo deducibile se un imprenditore un autore autonomo ha la sua liquida salute del 40% di quei 5.000 euro lì due li recupera subito nell'anno nel 7.30 nell'anno ok non c'è niente oggi di sicuro che metti i 5.000 euro e ne hai due di guadagno non c'è niente è un vantaggio fiscale ecco questo è da fare tanti lo vogliono fare lo fanno e poi purtroppo lo interrompono perché non ce la fanno più questo è un problema allora sono un autonomo posso fare il fondo pensione ce lo chiede Paolo sì sì ma ha i benefici sì sì fino a 5.000 euro all'anno puoi versare non c'è obbligo di versamento ho clienti che versano un anno due o tre poi non versano perché hanno altre spese se versi deduci hai il vantaggio fiscale se non versi non capita niente i soldi li puoi prendere all'età pensionabile però l'ultima legge dice dopo 8 anni di permanenza al fondo puoi prendere un po' del tuo capitale 30% senza nessun motivo dammi il 30% di quello che ho giù perché mi servono oppure fino al 75% per casa lavori di casa o comprare la prima casa sono finestre per poter accedere al tuo capitale infatti la prevedenza complementare deve essere una cosa da fare però che tanti vogliono farla e non ce la fanno perché è quel lavoro che è paghi il mutuo paghi le bollette paghi la macchina e pensi al presente e non tanto il futuro e rimandi e rimandi poi hai magari i 40 anni 45 e dici cavolo riprendi la pensione e basta devo farmela devi versare cifre esagerate perché per avere una pensione veramente interessante quindi bisogna pensare devi arrivare all'età pensionabile con almeno 200.000 euro di capitale finale convertendoli in rendita hai una veramente una goccia vitalizia allora non è facile dire tutto insieme 30 secondi c'è una domanda poi ci torniamo Enrico perché però questa dobbiamo assolutamente rispondere se capita qualcosa di brutto prima ci chiede Cetti i soldi i soldi vanno agli eredi esentasse ok però vanno agli eredi sì 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 vanno esentasse e anche qui cioè non si può scrivere non si può lasciare scritto a chi devono andare quando faccio il contratto gli lo chiedo ai beneficiari puoi mettere i legittimi puoi mettere un nome due nomi tre nomi è importante si può lasciare uso queste formule qua pseudo finanziarie e assicurative per gestire le cose brutte il passaggio generazionale capitali grossi quando manca il nonno il papà gli eredi pagano tante tasse queste formule sono esentasse per cui più si avvicina il momento brutto con l'età più devi investire in modo tranquillo per evitare di prendere scorsoni e metti in portafoglio formule finanziarie e assicurative abbiamo dato un altro bello spunto allora il tempo alla nostra disposizione è praticamente si è volatilizzato potrete rivedere domani questa puntata alle 10.30 in replica così come tutte le puntate della settimana sempre in replica il giorno dopo alle 10.30 io saluto e ringrazio Enrico Zone ti aspetto ancora grazie a voi e alla prossima e con voi l'appuntamento è per domani a presto a presto a presto Grazie.